L'approvazione del nuovo regolamento per i vigili urbani di Pescara al centro dell'ultima seduta del Consiglio Comunale. Lo strumento fondamentale per organizzare l'attività della Polizia Municipale del Capoluogo Adriatico ha subito una battuta d'arresto per i numerosi emendamenti presentati. I sindacati ci chiedono di organizzare pattuglie con tre agenti, ha spiegato il comandante Magitti, ma se si dovesse ammalare un agente non potrei utilizzare quella pattuglia. Allora abbiamo previsto di mettere in servizio a due battuglie con due persone, in modo che se non dovesse essere utilizzabile una, ce n'è sempre un'altra di riserva. Dal 2013 che la Regione nel dettare una nuova legge aveva dato l'obbligo ai comuni di recepirla, ad oggi questo regolamento ha fatto vari passaggi, era stata recepita ed approvata dalla Giunta Comunale, come peraltro stesso organo che ha approvato il regolamento fino ad oggi, fino a stamattina in essere, dopodiché è successo che il Consiglio, il Tar ha ritenuto essere competente il Consiglio Comunale, quindi dopo numerosissime sedute di commissione, oltre 20, si è approdato in Consiglio dove effettivamente tra tanti emendamenti e tra tante discussioni si è cercato di approvare il miglior strumento operativo possibile.